Vincenzo, torni qui a Reggio dopo quella sfortunata sera di Novara, dove comunque hai un po' propiziato il gol di Bonazzoli. Ricomincia una nuova avventura qua a Reggio, quali sono le tue sensazioni? Sicuramente le sensazioni sono buone. Novara è stata una botta che è ancora tuttora, diciamo, ci pensiamo. Però speriamo che quest'anno faremo una grande stagione. Sei tornato a Reggio con tutti i buoni propositi, la gente ti acclama, ti vuole bene, anche domenica allo stadio, tanti applausi, tante belle giocate. Ti senti un po' diverso da quello di due anni fa, ti senti un po' più leader di questa squadra? No, non c'è un leader. Qui, come ho detto prima, c'è un grande gruppo. Sicuramente la prestazione di domenica è grazie ai miei compagni che mi hanno messo a disposizione. Mettermi a me nei migliori dei modi di giocare come domenica, farebbe la prestazione. Ancora presto per porsi gli obiettivi stagionali come Reggina, sicuramente sarà quello l'obiettivo di fare bene. Mentre l'obiettivo di Vincenzo Sarni in questa stagione qual è? L'obiettivo mio è quello di restare qui a Reggio e di dare il mio contributo alla squadra. Sabato prima, secondo gara ufficiale a Modena, Caliendo ha detto reggina squadra ostica, quindi andrete a giocarvela. Sì, come ho già detto andiamo lì a Modena per fare il risultato sicuramente. Ci teniamo la Coppa Italia come tutte le gare ufficiali.